Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostratale regionale e in FIPILI. Possibili rallentamenti in A11 per presenza di mezzi spargisali in azione tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A12 nei due sensi di marcia. Per le statali segnaliamo sulla statale 12 il rabetone del Brennero, tratto chiuso per caduta massia all'altezza di Giardinetto nel comune di Bagni di Lucca, viabilità deviata in loco. Per il traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale ricordiamo che la validità dei tagliandi ISEE TPL è stata prorogata fino al 31 marzo 2018. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!